Col calo energia e col calo carburanti è tempo di dare ossigeno alle tasche. Come? Recuperando qualcosa dalle tasse che abbiamo pagato. Con una recente sentenza della consulta cambia tutto sull'Imu e su libero quotidiano.it questa mattina vi raccontiamo come poter ottenere un rimborso integrale dell'Imu dal 2017 al 2022. Il rimborso riguarderà tutte le famiglie che hanno due abitazioni principali. In passato si aveva l'esonero su un solo immobile e si pagava la tassa sulla seconda residenza. Adesso con la sentenza della consulta chi vive in due abitazioni principali e dimostrerà tramite le utenze di gas, luce ed acqua di vivere separatamente dal conuge in un'altra residenza avrà questo rimborso di centinaia o addirittura migliaia di euro. Seguiteci su Libero Quotidiano e scoprirete come chiedere questo maxi risarcimento.